Per un mese intero sulla via per Parigi abbiamo stretto la morsa intorno agli ultimi crocchi in fuga. Ma come Serp in trappola, da quelli devi aspettarti di tutto. Se vogliamo lasciare il segno dobbiamo essere pronti a tutto. Anche a lavorare con l'SOE, le forze speciali inglesi. C'è qualcosa in ballo? Per forza. Devi segui. La Resistenza ci ha appena informato di un treno tedesco che trasporta dei razzi V2 per un attacco a Parigi. È in sosta vicino ad Argentano. Questo ci dà abbastanza tempo per portare la squadra in posizione. Dobbiamo fermarlo lì. Avete dimostrato il vostro valore a Marigny, quindi avrete voi questo privilegio. Grazie signore, ma questo non sembra un lavoro per un solo plotone. Infatti farete squadra con l'SOE. Però vi siete dati da fare. Tranquillo, tenente. Ce n'è per tutti. Argenti Vivian e Crowley condurranno l'operazione. Lavorano con la Resistenza da mesi, conoscono il terreno, obbedirete a loro. Abbiamo saputo di Marigny. Notevole. Non è solo merito mio. Normale amministrazione. Un gran lavoro, ma il difficile viene ora. Non è un comune treno rifornimenti tedesco. È una fortezza su rotaie. Il nostro contatto nella Resistenza, Rousseau, proverà a supportarci, ma gli attacchi alla nostra rete potrebbero lasciarci isolati. Il destino di Parigi è nelle vostre mani. Mi ricorda il nostro lancio sopra Vercors. L'agguato contro la Gestapo. Come sei romantica. Ecco il bersaglio. I crucchi sono tipi precisi. Il treno è puntuale. È un treno così grande. È così corazzato. È un Panzerzug. Quei V2 hanno un raggio di 300 chilometri. Possono arrivare a Parigi. Non devono arrivare al sito di lancio. Shh, shh, shh. Movimenti nemici davanti. Bene. Io e Vivian li facciamo fuori. Turner a quel punto avanza. Daniels, dopo la tua impresa a Marigny, fornirai fuoco di supporto insieme a Ziosman. Forza. Bene, andiamo. State tutti giù. Silenziatori. Ammazza il cicchino. Daniels, usa il coltello. Ben fatto, Daniels. Adesso l'ufficiale. Ha il tuo segnale. Spara all'ufficiale. Sì. Turner, prendi qualcuno e aggirate la casa. Daniels, resta con Chrome. Muoviamoci. Andiamo. Shhh. Ich brauche eine. Occhio. Was? Andiamo. Il cecchino è tu, Daniels. Stai basso e avanza lentamente. Ben! Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Cambio di programma! Ci hanno beccati! Cambio di programma! Ci hanno beccati! Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Demigia all'ufficio postale! Aiuto! Andiamo, signori! Vado a sinistra! Devi aiutarli! Dobbiamo seguire il territorio! Merda! Non ce la faremo mai! Siamo ancora in tempo! Andiamo tutti al basso! Cambio di programma! Ci hanno beccati! Prendite le munizioni, Daniels! Sto portando! Non posso dominare! Arreghiamoci! E mi c'è l'ufficio postale! Pariamo, signori! Devi aiutarli! Vado a sinistra! Dobbiamo seguire quel treno! Merda! Davanti a noi, fuoco! Non ce la faremo mai! Siamo ancora in tempo! Siamo ancora in tempo! Davanti! Hitman di controllo! Tutti al treno! Sono scoperto! Romi! Il treno sta per partire! Non deve sfuggirci! L'attività nemica è più avanti! Tieni duro! Romi! Per noi! Porca mia via da qui! Esci! Non scoperto! Ehi, scoperto! Stanno uscendo! Eccoli! Ha un fucile a cannalisti! Usa una granata! Granata! Sposta una granata! Sposta una granata! Dai, Nielsen! La porta! Scoperto! Cambio di programma! Ci hanno beccati! Sta portando! Prendi delle munizioni di Nielsen! Lancia una granata! Nemici all'ufficio postale! Andiamo, signori! Vado a sinistra! Dobbiamo seguire quel treno! No! Procediamo! Merda! Fucile a cannalisti! Non ce la faremo mai! Siamo ancora in tempo! Devi aiutarvi! Avanti! Tutti al treno! Con vero! Con spero! Non busto! Usa un fumogeno! Tira una granata funogeno! Granata! sono a corte di munizioni di cuor! subito! sono davanti! cambio di programma! ci hanno beccati! misioni per te, saldato! sto partendo! ah, sfrighiamoci! signori, mi servono i nostri colpi! andiamo, signori! andiamo a sinistra! dobbiamo seguire il peggonello! merda! davanti a noi, fuoco! non ce la faremo mai! siamo ancora in tempo! mc, dai, aiutati! giù! stante giù! avanti! Crowley, il treno sta per partire! non deve sfuggirci! qualcuno mi aiuti! ora una! non posso camminare! granato! da questa parte! subito! andiamo a ricaricare! fucile a carne liscia! go! ripiegano! ricarico! all'ufficio postale! ricaricare! andiamo per l'ufficio postale! granate e fumogini, Daniels! uso un agro... ecco che arrivano! andiamo tutti al basso! ah! batteria! l'ho scoperto! bersaglio a ore 12! amici! perdi! poia! terra! protettino! forza! Daniels! la porta! Daniels! apri la porta! Daniels! ho munizioni! attenzione! merda! Daniel si impiede! Tutti sulle camionette! Dobbiamo fermare quel treno! Andiamo, andiamo! Tieniti forte! Cazzo, attacco! Non uscire di strada! Attento agli alberi! Raggiati! Lo vedi? Eccolo, accelera! Sinistra! Così lo perdiamo! Ci provo! Ci sfugge! Curva a destra! Lo stiamo perdendo! Sotto il conte! Più veloce! Cazzo, ci spara addosso! Attenzione! Puoi farcela! Puoi farcela! Ho il volto a stomaco! Dovevo guidare io! Ti accontento subito! Prendi forte! Aspetta! Spara! Abbiamo finito! Tieni la ferma! Lanciano granate! Carlo! Andiamo! Andiamo alla testa del treno! Fuoco fuoco! Tirando! Dentro il vagone! fino che arrivano alti! Sì, tra gli attrici! Ottimo, Daniels! Portaci via da qui! Avviciniamoci, non potranno colpirci! Granata! Ci penso io! La camionette a pensi! Sarda! Merda! La camionette a pensi! Daniels, dove cazzo sei? Arrivo, aspetta! Porca puttana! È successo davvero? Ce l'abbiamo fatta! Finirà nei libri di storia! Stiles avrà fatto qualche foto! Pearson potrebbe anche lasciarci in pace! Occhio! Occhio! Seguitemi, vi porto dal plutone! Scusa, e tu? Che cazzo sei? Un'amica! Svelti! Kit medico, qua! Qui, qui! Subito! Truppe tedesche! Truppe tedesche! In movimento! In movimento! Devo ricaricare! Registrari activite! Registrari activite! No! 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 Sono davanti a noi! Il vostro Plutone è di qua! No! 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 No!